C'è un po' di abruzzo nel Nobel per la fisica 2017. A ricordarlo il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio che ha seguito la diretta della consegna del premio a fianco al direttore del Gran Sasso Science Institute Eugenio Coccia. Di Pangrazio esalta la scoperta delle onde gravitazionali oggetto del Nobel di quest'anno e ricorda il fondamentale ruolo dei ricercatori e docenti del GSSI che hanno firmato l'articolo che annunciava la scoperta pubblicato sulla rivista scientifica Physical Review Letters. Questa vittoria rafforza i legami tra l'emiciclo e l'istituto di ricerca Aquilano che a breve trasferirà parte dei suoi uffici nel palazzo Exigili di proprietà del Consiglio regionale.